No, è dedicato a San Carlo Borromeo perché c'è quella peste, hanno invocato a San Carlo e non hanno la fatta smetta. Ma già era morto San Carlo? Già era, San Carlo Borromeo già era santo, quando succedì la peste. Borromeo è il chico delle promesse scose. Sì, non ricordo, ma non ricordo. Il periodo, nel 1500, nel 1600, era vico nel 1600. Sì, qua nel 1700 era peggio. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.